Pronto, parlo con Roberto, il sindaco di Arzachena. Salve sindaco, l'ho chiamato in merito a quella storia con Briatore, perché lui si è arrabbiato che è stato chiuso il billionaire, e poi ha fatto un video dicendo che lei non ha mai fatto un cazzo, non ha mai lavorato, e lei proprio in repli a quel video ha detto che no, anzi la sua ordinanza è per tutelare le persone come lui. E poco dopo, tac, subito all'ospedale, ammazza quanto è permaloso, sindaco. Sindaco, io sento tipo trenini, bottiglie che si aprono, tipo, sta festeggiando, sindaco. Ah no, è la televisione. Sì, no, allora ho capito male io. Anzi, lei si augura pronta guarigione per Briatore. No, quello tutti, sindaco. Per carità, non si scherza su queste cose. No, io però le volevo dire che io proprio la stimo molto, a differenza di Briatore. Secondo me è un grande lavoratore, proprio. Se dovesse incazzare e portarmi sfiga pure a me, anche se io non ci credo proprio. No, no al Covid, no, quello ci credo, sindaco. No, no, non se cazzi, no, io non credo alla sfiga, cioè, non mi fraintenda, sindaco. Cioè, io al Covid ce credo proprio. Eh, se dovesse incazzare, no, no, sindaco. Anzi, le volevo dire in merito a questa cosa, a differenza di Briatore, io penso che lei sia un bravissimo sindaco, proprio un grande lavoratore, poi sindaco intelligente, affascinante. Un sindaco così in tutta Italia non ce l'abbiamo mai avuto, proprio lei è il migliore di tutti, sindaco. bello, guarda, se non fossi sposato gli chiederei anche di sposarmi, sindaco. Sindaco, che dice? Che la sto prendendo per il culo? No, sindaco, no, per carità, no, è tutto vero. Sergio Giuffrida la stima molto. Sindaco, ma che mi ha attaccato? Sindaco. Oddio, speriamo bene. Oddio, speriamo bene.